Un giorno mi sono iscritta all'UGS e non potete immaginare cos'ho scoperto. Una comunità di giovani entusiasti che si riunisce per conoscere e far conoscere la Svizzera. Tanti ragazzi che si danno una mano l'un l'altro. Noi siamo una famiglia ed organizziamo congressi per ritrovarci e parlare di temi che interessano tutti noi. Parliamo di educazione, di formazione in Svizzera e di come approcciarci al mondo del lavoro. Siamo dovunque, in ogni regione e in ogni città. E siamo anche online, su Instagram e su Facebook. E, due volte all'anno, ci ritroviamo in un posto sempre nuovo. Ed è sempre come ritrovare degli amici più vecchi a casa, anche se magari è la prima volta che ci si trova più. Insomma, siamo un anello, la congiunzione tra istituzioni e giovani. E dei giovani tra di loro. Dove siamo? L'Unione Giovani Svizzeri. Benvenuti tra noi. Vuoi tuffarti anche tu in questo vortice che prende tutto? Vieni a trovarci sabato 27 novembre, presso la Scuola Svizzera di Milano. Per partecipare, iscriviti sul nostro sito www.unionegiovani-svizzeri.org Giovani Svizzere e giovani Svizzeri, buonasera. Se vi dicessero che a Milano c'è la Svizzera, voi cosa potreste pensare? Di certo non può essere la confederazione intera. A Milano c'è un nido di svizzeritudine dove noi giovani possiamo incontrarci per condividere e perché no, talvolta per riscoprire tutte quelle tradizioni e quelle consuetudini che tanto ci legano alla madre e patria. Feste, divertimenti, conferenze e concerti, gita e tanto sport. Si allena la propria concentrazione col tiro sportivo della sezione tiratori. Oppure si può giocare a birilli in una pista elettromeccanica che è un vero gioiello dell'ingegneria. O magari ci si ritrova nella stube per una racletta e una fonduta a conoscere nuovi amici o perché no, magari l'anima gemella. E insomma, giovani Svizzeri, se d'ora in poi vi si dirà che c'è una Svizzera e Milano, voi non verrete più colte alla sprovvista. E ricordate, alla Società Svizzera di Milano, tutto è pronto per nutrire la Svizzera che è in voi. Vi aspettiamo! Siete incuriositi? Per chi non abita Milano, nessun problema. Nelle principali città d'Italia esistono decine di circoli svizzeri che non vedono l'ora di accogliervi. Per scoprire il circolo più vicino a voi andate sul sito www.collegamentosvizzero.it